Il trekking della via Decia offre tante opportunità di conoscenza tante opportunità di esperienze una di queste relative alla miniere che ci sono sul territorio della valle di scalve e noi siamo qui alla nona di scalve vicino a un carrello che è testimonianza di quell'epopea si è interessante questo aspetto nonostante il paesaggio sia quello alpino la vita della valle di scalve in realtà è stata scandita per duemila anni dall'attività della miniere che abbracciava interamente il territorio dai fondi di schilpario dove tutt'oggi è percorribile visitabile una miniera ai territori qua di fronte a noi della manina di barbarossa alla zona i piedi della presolana nella zona del rifugio albani la miniera è stata la linfa vitale che ha tenuto viva la valle di scalve per oltre duemila anni fino praticamente all'inizio degli anni settanta e il cammino della via Decia permetterà anche di cucire tra loro tantissime di queste testimonianze le miniere gli ingressi in miniera le aie carbonili ingressi in miniera dismessi oggi non più visitabili è davvero anche questo uno dei figli rossi che uniscono la nostra avventura con le testimonianze delle persone che hanno lavorato e vissuto quest'epoca ad esempio a colere c'è la possibilità di visitare il museo assolutamente sì abbiamo il museo zan albert che si trova nella zona di carbonera un edificio che fino a che le miniere sono risultate attive faceva parte della della filiera diciamo della lavorazione del minerale c'è quindi il museo di colere abbiamo a pario il museo della miniera anche nel museo etnografico di schilpario insieme ad oggetti che raccontano la vita quotidiana della valle sono presenti testimonianze legate all'attività mineraria ma poi è lungo il cammino che si trovano appunto gli imbocchi si trovano i manufatti che erano relativi alle attività si trovano i nomi dei luoghi che richiamano come prima abbiamo detto carbonera per esempio richiamano le attività che lì si svolgevano sì è proprio così è proprio così per cui chiunque deciderà di affrontare questo percorso in realtà avrà diversi piani di lettura da quello naturalistico quello culturale storico legato alle attività produttive alle miniere all'arte è davvero un percorso multistrato diciamo non a caso il trekking della via decia ha come sottotitolo appunto il sentiero dei boschi di ferro si Grazie 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 a tutti.